Buona giornata puntata speciale 12.47 perché ci seguo in diretta puntata speciale eh dedicata a quanto sta avvenendo eh in tra Israele e di nuovo il mondo palestinese dopo l'attacco di Hamas la risposta si parla di una risposta massiccia in in queste ventiquattro quattro ore da parte di Israele e allora eh con noi Fausto Carotenuto che ringrazio di cuore ciao Fausto. Ciao carissimi ciao ciao. Qui chiaramente da una parte c'è il la tragedia di tutte queste vite eh che in modo barbara insomma da una parte e dall'altra eh finiscono e però c'è da capire come spiegare tu conosci molto bene chiaramente il mondo medio orientale come spiegare questa improvvisa riaccensione di quel fronte in modo così eclatante. Eh dunque diciamola più semplice possibile se tu in varie situazioni dopo tanti anni in tanti anni e parlo di Israele accetti eh la spartizione eh dello Stato di Israele e accetti di restituire determinati territori alle popolzioni palestinesi mettendo fine al fatto che stanno chiusa in gabbia eh dipendenti assolutamente da Israele bloccate in tutti i modi tu glielo prometti varie molte firmi fai eccetera eccetera e poi non lo fai che cosa favorisce? Favorisci che ci sia un'estremizzazione dall'altra parte favorisce che le frange più violente più disperate progressivamente diventino maggioritarie e questo è quello che è successo e quindi diciamo contemporaneamente i governi israeliani sono diventati sempre più estremisti sempre più nazionalisti non sono quelli di vent'anni fa di trent'anni fa sono diventati con un'ideologia quindi in apparenza lo Stato di Israele è impegnato a restituire i territori eccetera eccetera ma l'ideologia di fondo della destra israeliana soprattutto di quell'estremista che è condizionante dei governi degli ultimi anni e l'ideologia è tutto nostro Israele è tutto nostro anzi se fosse per loro arriverebbero fino alla Mesopotamia fino a Tich e Leofrate nell'inseguimento del sogno fanatico di quella che si chiamava Erez Israel o grande Israele quindi sembrano cose antistoriche ma così come noi sentiamo cose antistoriche da Hamas che vuole riprendere Gerusalemme e annullare lo Stato di Israele dall'altra parte ci abbiamo un altro estremismo e negli ultimi decenni questi estremismi sono si sono lasciati crescere nel solito grande gioco di cui io parlo dei poteri oscuri delle piramidi quindi questo è il problema il problema è che ai poteri oscuri mondiali alle forze anticoscienza per mantenere l'umanità in emergenza e sotto scacco e condizionarla servono tante cose in tanti settori dall' elettromagnetismo alle medicini all'alimentazione alla cultura sbagliata ma serve anche il disagio sociale ma serve anche la disperazione servono anche continui vortici di guerra che portano odio rancori violenza che sono dei freni alla crescita della coscienza umana quindi sono delle malattie umane che vanno create e per crearle si fa riferimento alle catene di comando di queste grandi piramidi una contro l'altra e alla fine le catene i burattini diciamo di quarto quinto livello di queste catene vengono fatti scontrare brutalmente poi noi sentiamo tutte le analisi che dicono ma no è colpa il primonisto quello voleva rimanere in adiao al potere e allora era sotto accusa e allora ha fatto diventare la situazione così terribile è vero così come è vero che è prevalsa dell'islam a partire dall'iran in poi sia in quello sciita che in quello sunnita con i fratelli musulmani una parte molto cattiva e sanguinaria e lo abbiamo visto nel modo in cui si comportano abbiamo visto ora le atrocità commesse era anche vero che queste atrocità commesse orribili vengono in risposta quasi programmata da qualcuno a livello a un livello superiore ad una durezza estrema e ad una io direi cattiveria estrema degli ultimi governi israeliani mi fermo qui un attimo ecco chi nell'ottica delle piramidi chi ha foraggiato Hamas si è parlato dell'Iran si sono parte dell'ipotesi come sai io li seguo da tanti anni ho vissuto in Iran ho fatto l'analista di Medio Oriente di questione arabia israeliana da quando avevo 25 anni quindi ho fatto per il governo per tante cose come analista quindi io conosco a fondo queste cose conosco i personaggi mi rendo conto però mi rendo anche conto che sono tutti coinvolti in un gioco più più grande di loro contando su sulle loro debolezze sulle loro ambizioni sui loro egoismi e quindi diciamo dei due grandi piramidi io parlo sempre di una grande piramide conservatrice mondiale e di una grande piramide finto progressista diciamo così quindi in questo caso ne ho parlato tante volte che attraversano tutto il mondo compresi i nostri partiti i nostri governi la nostra classe politica quella europea che si sono mosse nelle varie guerre mondiali che si muovono a tempo immemorabile in questo periodo ho fatto un seminario in Puglia su Federico II e ho fatto vedere come si muovono anche allora allora in questo caso gli attori sono poi bisognerà fare un po di storia però se vuoi però gli attori sono la grande piramide finto progressista che io chiamo gesuito massonica per quindi una parte di massoneria è una guida gesuitica dei gruppi oscuri che sono al vertice dei gesuiti questi gruppi hanno negli anni favorito il sorgere di un islam che non esisteva non esisteva dei tempi di momento cioè un islam intollerante un islam che voleva applicare questa legge coranica in maniera brutale come abbiamo visto in Afghanistan ma era un islam che non c'era prima qualcuno l'ha fatto crescere da un da più di un secolo e chi l'ha fatto crescere veniva spesso dall'occidente perché perché serviva un conflitto che sostituisse i conflitti ideologici che erano già programmatico di comunismo liberismo e ciò che abbiamo visto poi quello si sarebbe esaurito e quindi serviva un conflitto successivo che era come un ritorno alle crociate tra culture tra culture e religioni e questo fu previsto anche dagli ideologi americani come Hutchinson professore famoso che parlavano dei nuovi tipi di conflitti ma questi tuoi di conflitti si preparano decenni e decenni prima che quando ancora c'è il conflitto precedente e quindi a suo tempo fu creato questo conflitto a diciamo occidente islam che comincia soprattutto come conflitto arabo-israeliano però vediamo un po' per arrivare all'attualità poi se vuoi approfondiamo da dove viene sta cosa perché se no non si capisce e non c'è nessun commentatore che ne parla anche perché normalmente non sanno come stanno le cose veramente quindi si parla degli effetti ognuno prende le parti sue eccetera per arrivare adesso la grande piramide giocidio massonica in pratica è rappresentata dall'islam estreno cioè loro l'hanno fatto crescere quindi questo ha fatto a che fare con aver dato il via aver provocato a partire soprattutto dall'occidente fenomeno che sembra lontano islamico come la rivoluzione islamica in iran che io conosco molto bene per essere stato da quelle parti in quei momenti per molto tempo e quindi si crea questo tipo di islam ci si crea l'idea che l'elemento religioso estremista guida i popoli e questo va naturalmente a cozzare contro i nemici che loro come i niat li chiamavano i crociati ci chiamavano i crociati cioè proprio la riedizione quindi andava ad uno scontro e in tempi recenti c'è un altro gruppo insieme all'inan che è sorto ancora prima in egitto e quindi l'iran in ambito della parte sciita dell'islam l'altra parte sciita importante molto importante è quella sunnita nell'ambito di quella sunnita esso sono sorti i fratelli musulmani un secolo fa un po più di un secolo fa fratelli musulmani una massoneria islamica vera e propria che in questo momento è incredibilmente attiva e quindi in questo momento è rappresentata dalla Turchia dal Qatar ma stranamente il Qatar è vicinissimo alla massoneria inglese l'emiro del Qatar è un tenente colonnello dell'esercito inglese in quanto è stato diplomato lui il padre il nonno nell'accademia militare dell'esercito inglese gli hanno fatto fare un sacco di soldi col petrolio e col gas a un petto di una volta erano beduini i pecorai fino a pochi decenni fa li hanno imbottiti di risorse sono diventati la diciamo la banca nera alla guarattingere per creare al qaeda per creare per per fare l'emergenza e per giocare sull'emergenza quindi in questo momento questi sono gli attori hamas è una branca dei fratelli musulmani è la branca palestinese che prima non c'era dei fratelli musulmani prima c'erano i palestinesi erano laici con Arafat erano tutti laici Saddam Hussein Assad Mubarak Assadat Gheddafi erano tutti laici le rivoluzioni ehm islamiche le rivoluzioni eh con tutti che scendevano in piazza le primarie arme sono state organizzate da questo settore piramidale di cui parliamo per far diventare tutti i paesi non più equilibrati in qualche modo anche con dittature dure ma diciamo equilibrati ma far diventare dei paesi che erano tutti focolai di tensione e focolai di scontro con l'Occidente questo è stato un piano che è andato avanti tranquillamente che ancora va avanti dall'altra parte c'è la destra conservatrice e tutti i regimi connessi diciamo al gruppo conservatore come l'Arabia Saudita gli Emirati il Kuwait in parte come l'Egitto l'Egitto ha resiste ha fatto al Sisi ha dovuto fare un colpo di stato perché alle elezioni erano usciti i vincitori in Egitto dopo la fine di Mubarak i fratelli musulmani che stavano cominciando a fare un disastro in Egitto l'esercito è stato obbligato a fare un colpo di stato quindi l'Egitto la Arabia Saudita i paesi che gli intorno fanno parte della parte conservatrice e quindi si appoggiano anche alla massoneria internazionale conservatrice a settori del Vaticano conservatori qui diciamo è tutta la stessa lotta in Israele è un po' un disastro perché Israele si muove per conto suo Israele ha le sue esigenze di sicurezza no è talmente piccolo che loro hanno sempre pensato se io non mi difendo brutalmente se non mi procuro centinaia e centinaia di bombe atomiche che loro hanno da decenni se mi invadono in poche ore io non esisto più sono come un pezzo di Lazio cioè sono come una regione italiana arrivano mi attraversano come se niente fosse quindi immaginate che strategia che tensione che c'è in quel popolo creata apposta creando Israele e quindi che che voglia di reagire che voglia di vendicarsi questo termine vendicarsi che è stato adoperato immediatamente il dente per dente da Netanyahu io ho conosciuto delle figure luminose di Israele ultimo di quali è stato Rabin così come in qualche modo una figura luminosa con tutti i suoi difetti era raffatto il laico e alla fine guardandosi male avevano fatto anche la pace la pace che prevedeva dei passi che poi non sono stati fatti ma per non fare quei passi qualcuno ha ucciso Rabin e avvelenato Arafat questa è la storia forze occidentali oscure per tenere ancora in mano il mondo ma soprattutto per servire i loro padroni che vogliono tenere sempre noi in violenza emergenza odio come delle malattie proprio anticoscienza continuano a creare e a manovrare in questo modo è stato confuso si è chiarito un po' no assolutamente qualcuno in chat chiedeva se c'è il rischio di un allargamento di questo conflitto rimarrà lì territoriale guarda il problema è che una cosa noi non sappiamo e non sanno gli analisti quelli che interpretano boveracci sui giornali sui finti esperti degli istituti di politica internazionale loro non conoscono la strategia di fondo quindi ammettiamo che uno abbia deciso di far fare un colpo di stati da rabbia saudita contemporaneamente che non è previsto oppure di far fare un'altra azione sana gli iraniani anche se non gli conviene prendono e lanciano dei missili ci hanno i missili a lungo raggio che arrivano in israele e forse fanno anche delle bombe sporche non gli conviene non lo farebbero chi glielo fa fare come anche adesso Hamas ci saranno state tutte le convenienze però ha fatto questa cosa muoiono tutti quelli che hanno fatto l'operazione perché gli iraniani li uccidono tutti sono troppo più forti si ritrovano il paese iper bombardato molti di quelli che hanno dato gli ordini moriranno anche loro dal punto di vista razionale gli conveniva? in parte sì ma in buona parte no cioè le mosse che vengono fatte in giro non sono ragionevoli quindi nel ragionevole io dico non ci dovrebbe essere un arragamento del conflitto perché chi è che si mette a fare la guerra con una potenza nucleare cioè c'era più di 300 bombe atomiche quando 40 anni fa Israele non voglio immaginare quello che c'è adesso ma forse più di quello non gli servono quindi più di tante Israele non gli possono fare e lo sanno tutti gli possono fare terrorismo e quello gliel'hanno fatto ma come vedete non ha smosso le cose però diciamo è un bubone di tensione che sbilancia gli altri governi che crea problemi perché tutto il Medio Oriente viene sbilanciato da questa ferita che fu creata con la dichiarazione di Balfour del 1917 fatta dal ministro degli esteri inglesi e massone in cui si decide che il sogno dei sionisti che tutti prendevano in giro era vero e quindi avevano diritto ad uno stato in Palestina e lo fecero rubando le terre anche con la violenza agli arabi lì ma chi l'ha creato il bubone? posso rispondere? la massoneria inglese per fonte dei coteri oscuri poi il resto viene tutto a cadere ma non è che quelli che hanno creato le cose le varie massonerie i vari poteri compreso il Vaticano i vari poteri si disinteressano poi continua a lavorarci quelle sono poveri vittime che muoiono i soldati israeliani muoiono i palestinesi muoiono tutti muoiono la guerra è irachina milioni di morti questo è quindi che cosa succederà? non lo so sta già succedendo un disastro quindi si può allargare o non allargare siamo nelle mani sicuramente ci sarà un bagno di sangue enorme perché gli israeliani devono reagire la posizione dello stesso Netanyahu è debolissima già era perché? perché è inseguito da mille processi e questa maggioranza gli assicura alcune riforme della giustizia che lo tengono al riparo ma il resto di israeli è sceso per strada per mesi contro questa cosa pure i militari sono scesi per strada quindi la sua posizione è debola questo è sicuramente un colpo a Netanyahu e alla coalizione di destra ma la maggioranza di israeli è di destra e quindi se questi attaccano potrebbe anche rafforzarsi invece di cadere quindi la situazione è molto complessa una cosa di una cosa sono certo vedremo tantissimi morti e speriamo che la cosa non si allarghi non vedo chi avrebbe l'interesse ad allargarla ma vi ho detto quindi si parla della Russia la Russia c'è solo i problemi gli Stati Uniti hanno una marea di problemi hanno l'Ucraina da mantenere hanno la Cina da affrontare e c'è un rafforzamento enorme nel Pacifico hanno mandato una porta aeree ma se anche volessero sostenere Israele in una guerra a lunga scadenza non è possibile e poi un altro argomento con Israele le guerre non possono essere a lunga scadenza perché c'è una enorme superiorità di Israele che però fa un sacco di morti e quindi un sacco di conseguenze solleva ancora la tensione immaginiamo anche noi potremmo avere delle ondate di terrorismo anche in Europa perché no? perché tutti gli islamici che gli stessi poteri hanno fatto arrivare con immigrazione clandestina in Europa proprio per fare il conflitto anche da noi non solo in Medio Oriente è chiaro che sono pieni di gente per bene bravissime persone islamiche che però sono infiltrate molto dagli stessi elementi che stanno combattendo contro Israele e quindi se qualcuno li eccita contro i crociati contro di noi quelli come abbiamo visto in passato fanno cose qui diciamo quello che si può vedere è un'iper-eccitazione dei rapporti e spero che non vada a finire in un'iper-eccitazione del terrorismo detto questo se i servizi occidentali volessero potrebbero fermare tutto soprattutto in un'epoca in cui tutto si vede dai satelliti ti fanno le radiografie dall'alto cioè non sfugge nulla come Bin Laden che sfuggiva sfuggiva perché non hanno deciso forse di ucciderlo chissà se hanno ucciso lui però diciamo non si sfugge non si può sfuggire come noi prendiamo il segnale internet dappertutto loro prendono dappertutto quindi si manovra su quello che si sa e su quello che non si sa io sono certo che i più raffinati servizi occidentali i vertici sapevano perfettamente che Hamas stava per attaccare perché un'operazione così non si nasconde potrebbero averla nascosta proprio agli israeliani o a quasi tutti gli israeliani certo poi è partito anche dal punto di vista mediatico perché chiaramente la brutalità dell'azione di Hamas come è stata qui rende anche più difficile la vicinanza rispetto al passato magari la vicinanza anche magari dalle nostre parti alla causa palestinese questa volta perché comunque vorrebbe dire giustificare queste brutalità si è parlato si sta parlando leggo vari commentatori che già dicono che è l'11 settembre di Israele quindi ci sono tutte anche queste metafore questi simbolismi che vanno a fissare mediaticamente e nelle persone questa narrazione che vede chiaramente Israele legittimato a una reazione forte si e guarda come nei filmati che ci fanno vedere in continuazione è che Hamas ha emesso cioè è come quasi se fossero d'accordo ma chi li dirige sta dirigendo tutti e due si vedono scene di sangue sgozzamenti in certi casi si vedono cose orribili ma per chi le fanno vedere per noi perché quello che si vuole è un'alterazione psicologica dell'anima molto forte della coscienza molto forte e quindi questo viene fatto così come le parole molto dure ma ti faccio un esempio la cosa è molto peggiorata perché quando c'erano le prime reazioni dei palestinesi Arafat e i suoi allora cacciati dai territori di Israele durante la guerra dei sei giorni loro quindi nel 67 loro in massa se ne andarono in Giordania in tanti posti ma la gran massa stava in Giordania e la Giordania che cos'era? era un regno inglese diciamo pure perché sono quei re quelle dinastie che erano i beduini che hanno aiutato gli inglesi a sconfiggere l'impero ottomano quindi dipendevano da loro ne presero alcuni che abbia i beduni e gli hanno fatto fare il re di Siria il re dell'Ira che è il re dell'Arabia Saudita e il re di Giordania il re d'Egitto dovunque hanno ciso loro un giorno la guardia giordana corazzata addestrata dagli inglesi incredibilmente efficiente un giorno di settembre arriva e fa un massacro incredibile dei palestinesi che non stavano combattendo e come reagiscono i palestinesi scappando andando via eccetera eccetera e diventando anche formazioni terroriste che si chiamava settembre nero ma che dovevano fare questi? così come questi chiusi a Gaza che dovevano fare? poi diventano cattivi poi buttano giù gli aerei poi prendono gli ostaggi alle Olimpiadi a Monaco certo ma perché i nostri partigiani come diventavano? io non voglio fare un paragone fino a che siamo ai palestinesi laici stiamo così e potremmo anche paragonarlo ai partigiani che poi diventavano purtroppo anche torturatori ma quando scateni la violenza adesso la cosa è peggiorata perché il sorgere creato sempre dagli stessi gruppi di un Islam cattivo li ha resi non più solamente politici faccio una mossa politica rapisco metto una bomba di tipo terroristico laico no io sono proprio uno che li odia questi io vado lì e li sgozzo io vado lì e schiaffeggio e tratto male l'occidentale perché per me è Satana questo è stato alimentato questo prima non c'era questo non c'era così come non c'era un Israele ferocemente di destra velocemente di destra ultimamente facciamo l'esempio pratico di questo momento perché l'esercito israeliano è stato preso di sorpresa da questa aggressione da sud eppure Gaza era il nemico perché Netanyahu e il suo governo avevano spostato tutte le truppe migliori al centro nord per difendere dei gruppi di coloni israeliani estremisti di destra che negli ultimi mesi e anni facevano continue provocazioni contro i palestinesi nelle zone loro di autonomia perché? per creare quella situazione che prima o poi avrebbe portato all'occupazione di tutte le terre palestinesi e facevano questa cosa e per difenderli questo governo di resta estremista ormai teneva tutto l'esercito lì o quasi tutto quindi quando sono arrivati dopo essere assertati tranquilli per molto tempo come se non succedeva niente quelli di Hamas a Gaza sono entrati e non ne hanno trovato nessuno io mi sono meravigliato moltissimo come ai posti di blocco arrivano questi ai ingressi da Gaza arrivano questi con quattro pitra e quattro paracadute e entrano questa è la cosa che in questo momento sta scandalizzando gli israeliani da morire perché loro credevano di essere sempre protetti dal governo e tutti e tutti sono riservisti e tutti partecipano alla difesa e c'è qualcuno che l'ha traditi questo ormai è sulle pagine dei giornali israeli ma pensa pure questa è la è la dimensione locale è la dimensione degli uomini che si muovono ma sopra c'è qualcuno che favorisce la presenza di uomini che si muovono in un certo modo prendendo anche ordini o facendolo per i loro interessi perché questo è un interesse superiore anticoscienza e due piramidi lotta guarda caso il muoversi di Trump che è l'altra piramide conservatrice era stato quello di trovare il modo di pacificare ma poi arrivano questi della corrente non sono sempre stati pacificatori ma in quest'epoca è come se riparassero ogni tanto i danni fatti dall'altra corrente come Obama che riceve il Nobel della pace e succede un disastro dopo e fare cose peggiori e Obama faceva parte della stessa piramide dei democratici americani che sono da piramide Gesù Massaro tanto per fare un esempio non solo a Doha nel Qatar da cui vengono tutti i soldi per fare queste cose c'è Lemiro che è proprio un associato proprio un ufficiale dell'esercito inglese ma c'è tanto dice tu parli esempio dei gesuiti allora che devo fare la mia colpa mia è colpa dei gesuiti allora la politica estera americana da decenni viene fatta dalla Georgetown University dove insegnava Kissinger dove crescono gli ambasciatori politici eccetera eccetera su tutta la politica estera americana allora di chi è la Georgetown University dei gesuiti va bene ma nessuno ne parla improvvisamente in epoca di primavera arabe la Georgetown University quindi un rettore gesuita chi volete che sia decide l'apertura di una succursale a Doha in Qatar perché per istruire e quando istruire significa anche condizionare la classe dirigente catarina stanno andando stamattina a vedere che fanno corsi incredibili su come si fa con l'Afghanistan su come diventare un dirigente un ambasciatore un membro di organizzazioni internazionali un governante e lo fanno i gesuiti i loro se li addestano loro questo succede anche in Italia che sono diversi da loro anche importanti o direttamente o indirettamente chiede Cecilia non è possibile che l'obiettivo sia l'Iran 80 anni fa i palestinesi lanciavano pietre in un giorno entrano bombardano sequestrano i militari e un generale nella sua casa vedo un'azione militare allora la guerra all'Iran non è possibile farla cioè è possibile fare uno scontro come fecero apposta sollecitando Saddam Hussein e furono gli americani a farlo ma non ce l'hanno detto ad attaccare l'Iran ma diventò una guerra di attrito incredibile in cui l'Iraq aveva una marea di morti anche l'Iran ma l'Iran è un paese enorme fatto di una popolazione che è molto attiva molto intelligente molto capace guardate come stanno rifornendo i russi che non ce la facevano di droni e altre cose e guardate come appoggiano nonostante il blocco intorno a Damas a Gaza loro sono riusciti a fargli arrivare tutto tutto quello che serviva ogni tanto gli hanno sequestrato una nave vabbè ma che importa loro alla fine ce la fanno loro hanno i satelliti loro stanno hanno sviluppato misi loro stanno sviluppando la bomba atomica e con quale tecnologia con la tecnologia occidentale perché noi i gruppi oscuri di cui parlo gliel'hanno fornita ed ogni volta che la destra internazionale va al potere in America si blocca l'Iran ogni volta che ci va la piramia gesuito-massonica che domina l'Europa e che domina gli americani quando sono i democratici riaprono i canali alla collaborazione e dopo un po' gli levano anche le sanzioni e ricomincia la possibilità per l'Iran di fornirsi di tecnologie eccetera quindi uno scontro con un paese da se non so quanto è arrivato 70-80 milioni di abitanti preparati forti agguerriti non lo può fare nessuno cioè nemmeno gli americani invadendo l'Iran potrebbero non uscirne con le ossa rotte l'Iran è molto più forte dell'Afghanistan dove tutti escono con le ossa rotte quindi sicuramente l'obiettivo sì ma l'Iran partecipa al gioco gli isciti non sono una vittima loro partecipa al gioco loro stanno dalla parte dei fratelli musulmani sono quelli all'attacco in questo momento cosa ne pensa dice un'altra amica o amica della caduta del Nagorno Karabakh non è significativo considerandole profondissimi radici cristiani di quel popolo che sia stato conquistato dai musulmani proprio ora beh una vecchia vicenda insomma una vicenda che riesce dolorosissima e questo fa vedere come la zona è dominata dai fratelli musulmani quindi anche l'Azerbaijan perché perché il principale avete visto come il principale manovratore della zona è Erdogan Erdogan è proprio dei fratelli musulmani lui quindi è un grande manipolatore nella zona e guarda caso nessuno gli rompe le scato riesce ad operare con i russi e nessuno gli dà tanto fastidio dalla parte della dirigenza americana perché fanno parte della stessa piramide e delle stesse manovre e quindi purtroppo le popolazioni genuine no? le popolazioni come gli armeni una popolazione meravigliosa furono devastate a suo tempo dalle stragi fatte dai turchi e quel tipo di politica nei loro confronti continua ancora non li vogliono liberi non li vogliono tranquilli non vogliono queste enclave che vanno in un'altra direzione e poi se si devono accitare gli animi contro l'occidente loro così come Israele sono una sorta di ponte dell'occidente in quelle zone quindi ottimo per fare i conflitti Emanuela dice le forze oscure anticoscienza potrebbero essere una ragazza umana non come la nostra dico questo ricordando le menti raffinatissime di Falcone le menti raffinatissime di Falcone erano esseri umani lui faceva riferimento chiaramente a quelli dove era arrivato lui e lui pensava a menti raffinatissime potrebbero essere Andreotti questi pezzi di massoneria che è un individuato ma è più sulla storia la storia chi adopera questi pezzi di massoneria eccetera eccetera sono dei gruppi che lavorano ma sono gruppi umani la differenza è ma questa è la visione spirituale la differenza è tra forze spirituali del bene connesse a forza umana del bene e forze spirituali del male connesse a esseri che lavorano per loro il fine di questa cosa visto che le forze del bene stanno sopra e comandano è che comunque alla fine il passo in più è la nostra reazione positiva al male che è stato fatto al male che viene fatto la gente si indigna molto più di una volta la gente vuole il bene molto più di una volta ogni volta che viene fatto il male quindi il mondo ha bisogno di questo popolazioni più avanti come le nostre dal punto di vista civico diciamo hanno bisogno ancora di cose alcune popolazioni del di zone in cui la cultura e la civiltà sono un po' più indietro rispetto a noi hanno bisogno di scosse un po' più forti come quelle del resto che noi abbiamo avuto nel secolo scorso e nei secoli precedenti oggi tra l'altro il ministro della difesa israeliano ha detto che taglia acqua elettricità carburante tutto chiuso nella striscia di Gaza si sono comportati da animali e quindi da animali ci comportiamo noi questa è una frase occhio per occhio dente per dente che lì è facile però guarda io ti assicuro che non è facile giudicare anche questo montare della destra in Israele io quando sono andato varie volte in Israele quello che mi meravigliava è che mentre da noi non so le madri hanno paura di mandare i figli in guerra hanno paura che ci sia la violenza io ero stupito non tutte ma incontravo molte madri talmente agguerrite che dice andate ammazzate di tutti a questi palestinesi perché i miei figli sono a rischio al mercato sono a rischio dappertutto e che cosa gli vuoi dire è così ma qualcuno ha scelto facciamo un altro discorso per capire come è avvenuto questo perché se no anche parlando di mondo ebraico si fa tutto una pappa gli ebrei gli ebrei di Israele sono delle vittime sono delle vittime altra cosa è l'ebraismo internazionale di quelli che manco ci mettono piede l'ebraismo internazionale fa parte di gruppi quello elevato quello dei Rothschild quello eccetera eccetera ma anche più su di gruppi che noi abbiamo anche nel cristianesimo che ci sono nelle religioni orientali che sono sopra e sono anche uniti nel lavorare per conto del male non sono separate si dividono nelle varie piramidi quindi anche loro scientemente possono decidere e lo hanno fatto creiamo un bubbone e mandiamoci tutti i poveracci del Medio Oriente ebrei e tutti i più poveracci poveretti della Russia della Polonia che hanno passato di tutti i tipi e mandiamoli lì ma l'hanno mandati a sacrificarsi non a fargli lo Stato a sacrificarsi cioè nell'immediato sembrava li mandiamo stanno lì da soli tranquilli si fanno uno Stato in pace e poi hanno fatto di tutto per farli stare sempre in guerra era già previsto era già previsto sono le vittime questi poveracci vittime ancora di più in cui ne hanno fatto delle macchine da guerra o di anti ma è lo stesso vale dall'altra parte lo stesso vale dall'altra parte quindi questo fa vedere che c'è qualcuno che manovra tutte e due le parti per noi per metterci in emergenza e in quelle zone per creare delle grandi malattie dei vorcici oscuri di malattie dell'anima di malattia della coscienza odio l'odio è il contrario dell'amor che è quello che fa crescere le coscienze di volere il bene quindi come vedi è facile quando c'è l'odio fare l'assedio fare la vendetta è facile passare dall'amor al modo di comportarsi no? medievale antico no? prendo una città e la affamo cioè sempre proprio no? l'assedio medievale è facile è facile quando tu hai reso hai bestializzato le persone su tutti e due i fronti e chi le ha bestializzate sono gli stessi gruppi che vogliono solo fare in modo che l'uomo esca dalle sue parti più bestiali e diventi un essere migliore andando verso la conclusione Cagolina chiede chi tira le fila inglesi o americani sono tirati gli inglesi e gli americani cioè c'è un gruppo sovranazionale che hanno nazionalità ma è come se non ce l'avessero si incontrano si radunano prendono istruzioni dall'alto o dal basso diciamo poi poi vengono adoperate le varie nazionalità momento per momento a seconda delle qualità di un certo popolo volento per momento quando i romani erano proprio forti agguerriti e non come quelli da adesso proprio forti no lavoratori intelligenti gli hanno fatto fare l'impero romano poi si sono esauriti allora dopo un po' di tempo è uscito fuori l'impero spagnolo prima gli imperi dei goti dei barbari che erano ancora freschi si sono corrotti pure loro e allora hanno fatto fare l'impero agli spagnoli e poi si sono corrotti e poi i francesi e poi gli inglesi che hanno fatto l'impero angloamericano la massoneria inglese ha fatto l'impero angloamericano ed è quello un impero nel quale il cervello sta a Londra e le risorse in America e le vittime soprattutto in America ma anche quello si sta esaurendo tant'è vero che gli stessi poteri stanno accuratamente da tempo preparando l'impero cinese ma non come qualcuno che comanda come qualcuno che è più capace di organizzare le mene e le aggressioni a tutto il mondo da parte dei poteri oscuri superiori che non hanno nazionalità Allora c'era poi un'altra questione dice Giuliana i territori sono contesi non occupati non sottovalutate l'idea di califato universale promossa da tutto l'Islam Israele è una spina nel fianco alla completa islamizzazione del Nord Africa Sì vabbè ok cioè che dobbiamo dire ai livelli più bassi è tutto vero tutto vero è tutto finto ci sono delle strategie però non è il fatto che i territori sono contesi non occupati che cambia le cose è il prodotto di una dinamica non è la fonte di una dinamica è chiaro quello che dico? Sì Eh? Ok? È un gioco a scacchi è come se tu un certo punto c'è il cavallo qui non si muove e c'è uno che lo muove il cavallo ragazzi No? Guardandoci indietro guardiamo 11 settembre poi c'è stata la crisi economica poi il terrorismo internazionale la vicenda sanitaria l'Ucraina cioè senza soluzioni di continuità si passa da crisi guerre senza mai uno stop sostanzialmente eh ma guarda un po' no? cioè la questione è questa dal momento in cui alla fine della seconda guerra mondiale c'erano delle superpotenze atomiche e la guerra non si poteva fare se no si sarebbero fatte anche delle belle guerrone ma con le principali potenze la guerra non si poteva fare e allora è sorta una sorta di terza guerra mondiale continua fatta di tutte guerre minori però siamo stati sempre in guerra non siamo stati in guerra qui a Roma ma tanto per romperci le scale a Roma in Italia o in Europa però la guerra ce l'hanno fatta fare lo stesso col terrorismo il terrorismo le stesse forze l'hanno tirato fuori e questo ha lavorato su di noi in senso negativo ma anche in senso positivo perché la gente impara la gente dice io non voglio più sta violenza non la voglio più io voglio un mondo migliore e questo io voglio un mondo migliore è cresciuto faccio un esempio sentivo un documentario molto ben fatto sull'inizio della guerra della seconda guerra mondiale in Italia Mussolini non era convinto per motivi suoi di partecipare ci aveva il patto d'acciaio con Hitler mi diceva ma io cerco di non partecipare e qui l'esercito non è pronto qui succede non ci conviene alla fine le cose gliele mettono in modo che si trova fa anche male poteva anche non farlo ma non è come andava proprio lui una cosa che veniva fuori a un certo punto l'opinione pubblica italiana che era contraria alla guerra ma qualcuno la deve manipolare allora i giornali manipolano come hanno manipolato allora la Germania fa un blitzkrieg e conquista Svezia e Norvegia Olanda va a nord e conquista i paesi scandinai allora ci si aspettava che l'opinione pubblica diceva no no questi fanno la guerra l'opinione pubblica italiana alimentata dai giornali che non dipendono mai dipendono sempre da qualcuno che sta più su dei politici cominciò a dire bello ci piace andiamo in guerra pure noi ammazza che forte Mussolini cioè che forte Itra scusate allora questa fu una delle cose che spinse Mussolini a dire questi vogliono la guerra vabbè vediamo proviamo facendo un errore terribile però questo in un commento che fece a Ciano che era il genero ministro degli est gli disse vedi come sono gli italiani sono come le puttane che linguaggio di Mussolini sono come le puttane che si che seguono il maschio dominante il maschio più forte è così ma ci somiglia però cioè le popolazioni immature condizionate dai media le mandi dove ti pare però alla fine quelle immaturità che diventano sofferenza diventano per esempio da noi un orientamento completamente contrario al dopoguerra la crescita di una democrazia che nei primi decenni è stata vera e di una classe politica anche buona nei primi anni che non abbiamo che abbiamo dimenticato ma non completamente l'opinione pubblica italiana non è la stessa del fascismo o di prima non è così condizionabile gli individui crescono di vita in vita e le popolazioni crescono con la gente che di vita in vita e di esperienza in esperienza un po' una volta cresce vediamo con questo quesito ma il re del mondo di Ghenon è della piramide conservatrice o gesuito massonica? il re del mondo di Ghenon bisogna vedere se Ghenon ha capito chi è qualcosa del re del mondo cioè il problema è la fonte Ghenon non aveva le idee molto chiare però diciamo nelle grandi tradizioni si è sempre pensato ma questo in tutte le tradizioni più importanti di Ghenon che c'era delle divinità e un cielo positivo e una parte negativa e in effetti è così la novità la cosa da conoscere però è che la parte negativa è stata creata da quella positiva per svegliarci e che un giorno così come non c'era prima quando viviamo nel cosiddetto paradiso terrestre un giorno non ci sarà più quando non ci sarà più bisogno di stimolare le nostre coscienze dormienti e ancora troppo egoiste e ancora troppo trascinabili dal male quando non saremo più trascinabili dal male e un po' alla volta questa cosa sta andando avanti anche rapidamente agli ultimi decenni anche se non coinvolge ancora le maggioranze però tanta gente si sta svegliando tanta se ne sveglierà usando come diciamo sempre la voglia di bene cioè l'amore questa voglia di bene è cresciuta chi dice ma non è così dovrebbe studiare la storia e vedere com'era la società di 50, 100, 200 anni fa società orribile rispetto alla nostra che pure ha 3.000 difetti ma il modo pensare comune della gente era veramente facilissimamente manipolabile incredibilmente egoista e facilissimo alla violenza cosa che adesso non è proprio così quindi stiamo andando in una direzione giusta ma purtroppo pensa quanto dorme ancora la gente nel mondo questo gli dà la misura esatta di quante guerre e di quanti problemi avremo ancora però stiamo andando in una direzione giusta e ognuno di noi non necessariamente è chiamato a fare la guerra e il cattivo lì dove vive può anche fare il buono giusto? è questo che si aspettano da noi e con questo io ringrazio molto Fausto Carotenuto ci vediamo presto magari per riprendere chiaramente questi temi buona giornata a tutti buona giornata grazie a tutti